Dagli ultimi dati sull'esecuzione dei fondi strutturali, nell'attuale periodo finanziario, l'Italia è circa il 40% e ha fatto progressi sostanziali negli ultimi tempi. L'Europa ha una media un po' più alta e l'Italia, per tradizione, ha un certo ritardo. Ma speriamo che la tendenza continui, per un pieno utilizzo di questi fondi e dei prossimi. Perché anche quella è la questione. In Italia c'è un grande squilibrio nel tasso di esecuzione tra le regioni più sviluppate e le regioni meno sviluppate. Dobbiamo affrontare questo problema. Guardiamo con molta attenzione al piano per il sud del ministro Giuseppe Provenzano, anche perché vuole rimuovere le strozzature che impediscono una capacità di spesa fluida. Le questioni urgenti, da questo punto di vista, riguardano la pubblica amministrazione, la qualità nella gestione dei fondi, la governance e la stabilità circa i progetti da realizzare. Tutte queste cose sono un motivo di preoccupazione, ma quando si capisce dov'è il problema, metà della soluzione è già trovata. È della massima importanza prepararci per usare al meglio le nuove opportunità. Con i fondi del Resilience and Recovery Facility, per la prima volta, potrete sostenere la riforma pubblica amministrazione. E questo è davvero straordinario. Dobbiamo risolvere questi problemi al massimo nella fase iniziale del nuovo periodo. L'Italia, in passato, ha ricevuto contributi europei in fondi strutturali e di investimento per circa 45 miliardi di euro. Ora, con tutti i nuovi strumenti, riceverà tre volte di più solo in sovvenzioni. È una sfida in termini di spesa, ma è un'enorme opportunità. Quando parliamo di questi fondi, quando decidiamo come usarli, stiamo decidendo come saremo tra dieci anni, nel 2030. Stiamo definendo il futuro dei nostri figli e nipoti. Quindi è assolutamente essenziale che utilizziamo al meglio queste risorse. Perché il tasso di assorbimento è importante, ma ciò che si fa con le risorse lo è ancora di più.